Bentornati ragazzi con Sogna Pile Oggi vi farò vedere come costruire una balestra Che serve per tirare le cose Lo sapete Questa qui è la balestra All'apparenza può sembrare banale Però quando la usate è molto forte Allora, ora vi spiego come costruirla Allora, prendete le due penne e congiungetele tutte e due con un po' di nastro O anche con gli elastici Fatene due Una e due E poi congiungetele Sempre con gli elastici a croce Così E poi Per la molla Prendetene una dei pantaloni però più piccola Così Di questo spessore E dovete cercarla di incastrarla Negli elastici Così Che ho fatto io Ai bordi Così Ecco Così A questo punto abbiamo questa balestra Allora Allora Prendiamo Un pezzo di carta Così Ma anche qua Però io lo uso così Poi cercherò di mettere altre cose E formatelo a V Così E a V Poi prendete la molla E mettete E infilata così dentro Così Poi caricate E tirate E tirate E mettete mi piace Se vi piace Naturalmente E Commentate Iscrivetevi al mio canale E Allora Al prossimo video Ciao